Mancano le prove e per Davide Rebellin arriva la soluzione delle accuse di evasione e dopping. È il Tribunale di Padova ad aver assolto il ciclista Vicentino, da anni residente a Galliera Veneta, accusato di aver evaso al fisco oltre 2 milioni di euro e dell'utilizzo di sostanze dopanti. Rebellin, nel novembre del 2009, si era visto strappare dal collo del Comitato Olimpico Internazionale l'argento conquistato l'anno prima a Pechino, con l'accusa di aver utilizzato l'EPO, mentre sul fronte fiscale il ciclista veniva contestato di aver dichiarato la residenza a Montecarlo pur continuando a vivere nella villa dei suoceri a Galliera. Il Tribunale di Padova ha accolto le tesi della difesa, secondo la quale tra Pechino, Losanne e Parigi era stata violata la custodia delle sue analisi e a Montecarlo viveva davvero mostrando contatti, fatture e percorsi di allenamento nel Principato. Infine il ciclista, al quale il CONI aveva chiesto un risarcimento di 500 mila euro, nulla dovrà al Comitato Olimpico Nazionale. Resta il fatto però che nessuno restituirà l'argento a Rebellin.